Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Verrà firmato in giornata l'affidamento per la realizzazione del nuovo stadio Erasmo Iacovone la riqualificazione del Palamazola a Sport e Salute, società in house del Ministero delle Economie e delle Finanze con sede a Roma che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia ma svolge anche attività di assistenza, supporto e affiancamento in merito alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi. Gli interventi preventivati rientrano nell'elenco previsto per i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto nel 2026 e riceverebbero in questo modo una decisa accelerata soprattutto per ciò che concerne l'espletamento delle gare e l'esecuzione dei lavori. È stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Massafra un 17enne di Palagiano per detenzione di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato colto in flagranza di reato dai militari dell'arma in quanto durante il controllo a bordo dell'auto su cui si trovava avrebbe tentato di disfarsi di un involucro poi recuperato dalle forze dell'ordine e contenente cocaina. La successiva perquisizione dell'abitazione del ragazzo ha permesso di rinvenire e sequestrare 30 dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio al dettaglio e un bilancino utilizzato per suddividere la droga. Il 17enne si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di sentenza definitiva. Sono 17 i lavoratori in nero e 3 la cui posizione lavorativa risulterebbe irregolare emersi nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio effettuata dalla Guardia di Finanza di Manduria. Le attività ispettive hanno riguardato diversi esercizi commerciali ubicati a Manduria, Lizzano, Sava e San Marzano di San Giuseppe. Le violazioni riscontrate dalle fiamme gialle hanno interessato varie tipologie di attività commerciali. Al termine dei controlli sono stati verbalizzati otto datori di lavoro per l'utilizzo di mano d'opera in nero e irregolare. In un caso inoltre è stato richiesto al competente ispettorato territoriale del lavoro di emettere un provvedimento di sospensione dell'attività dell'impresa. Nella giornata di ieri l'incontro a Roma tra il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso un colloquio definito dal primo cittadino lungo e cordiale durante il quale si è discusso in maniera approfondita del momento critico attraversato dallo stabilimento siderurgico tarantino con particolare riguardo alle misure da porre in campo nelle prossime settimane per la salvaguardia del lavoro e dell'indotto anche in vista della nuova gestione commissariale della quale da più parti si auspica una breve durata. Melucci ha riallacciato il dialogo col governo e ha ribadito i presupposti sui quali gli enti locali possono garantire supporto tecnico-amministrativo alla vicenda a partire dalle tematiche della riconversione tecnologica e delle bonifiche, del fermo delle fonti inquinanti e dell'impiego dei fondi per la transizione giusta europea. Si è svolta questa mattina presso l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto la giornata dell'educazione organizzata dal Comitato per la Qualità della Vita. Un importante momento di riflessione nel solco dei valori di San Giovanni Bosco e di Carlo Collodi con la prospettiva di Taranto quale città della conoscenza, della ricerca e del futuro dei giovani. Oggi noi presentiamo come Comitato Qualità della Vita un documento programmatico. da sempre il Comitato è attento e rivolge la propria attenzione appunto verso i giovani e verso la realtà del territorio. Oggi in modo particolare nella giornata dell'educazione puntiamo a presentare questo documento incentrato su punti focali per il nostro territorio. Innanzitutto incentivare l'attenzione sull'istituzione della Fondazione Archita soggetto giuridico necessario affinché il nostro territorio abbia la sua realtà universitaria. Oggi 24 gennaio è la giornata dell'educazione. Il Comitato per la Qualità della Vita in questa giornata vuole richiamare l'attenzione di tutti, dell'intera comunità, dei politici, degli amministratori perché per davvero l'educazione, l'istruzione, l'università, la ricerca sia centrale nell'impegno di tutti. I nostri giovani si attendono questa attenzione che peraltro è un'attenzione prevista dalla nostra Costituzione. E su questo il 3 febbraio ci sarà il seminario di studi la città chiede l'Università di Taranto. Prosegue con grande soddisfazione il percorso del progetto sport civico che vede Taranto tra i sette comuni coinvolti a livello nazionale. Dopo l'opera di riqualificazione di Parco Iannelli e le conseguenti attività all'aperto, focus su quelle svolte quotidianamente alla palestra dell'Istituto Martellotta, partner dell'iniziativa. Abbiamo ascoltato il maestro Fabio Di Gregorio, tecnico dell'Accademia di Bartolomeo. L'entusiasmo dei bambini è molto alto. Loro seguono abbastanza. Vedo un accanimento nel lavoro in cui facciamo e è un entusiasmo. Noi nell'Accademia di Bartolomeo ovviamente facciamo più discipline, tra cui il karate, il jiu-jitsu e il judo. I bambini seguono. Certo abbiamo dei bambini che, per chi non fa sport, si avvicina a questo progetto e quindi a questi sport che facciamo fare non è semplice per chi non fa nulla. Presentata ieri in conferenza stampa, la prima edizione del Galà dello Sport di Massafra che si svolgerà venerdì 26 gennaio alle ore 18 presso il Teatro Resta e premierà le eccellenze e tutte le realtà sportive massafresi. È previsto anche un momento di ricordo per Salvatore Mazzarano, ex calciatore di Serie A, venuto a mancare nei giorni scorsi. Ai nostri microfoni il sindaco di Massafra, Fabrizio IV, e il delegato con i Taranto, Michelangelo Giusti. La mission è oggettivamente quella di rivolgere un sentito immenso grazie alle tante associazioni sportive che ogni giorno, ogni settimana e ogni anno, da tanti anni, garantiscono a Massafra lo sport. Sono davvero tante queste associazioni e all'interno di queste ci sono tanti sportivi di grande qualità e noi come amministrazione con questo gran Galà dello Sport vogliamo celebrare loro e ringraziarli. Sappiamo che lo sport è diventata, è oggi la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola, quindi ogni amministrazione non può che sostenere questo settore. È importante celebrare lo sport attraverso un riconoscimento a quelle ASD che quotidianamente, con passione, come dicevo anche prima, e competenza e determinazione portano avanti il progetto sport. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.